Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto, la tradizione di approfondimento che apre la giornata informativa di Telepadova 7 Gold, anche quest'oggi ospiti per approfondire temi diversi e storie diverse in particolare, come quella prima che vi stiamo per raccontare. Diamo innanzitutto il buongiorno a Lorenzo Crescioli, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, dottorando in storia, storia antica e archeologia all'Università di Ca' Foscari di Venezia, un bel accento toscano per raccontarci un esito della missione archeologica che è stata effettuata in Kazakistan sulle tracce dei Cavalieri del Silenzio. Lorenzo, capiamo innanzitutto sulle tracce di cose avete lavorato. Quanto tempo fa è accaduto questo vostro studio? La missione archeologica è stata la scorsa estate, quindi nel mese di agosto principalmente. È durata circa tre settimane e era tesa proprio allo scavo di alcuni tumuli funerari, chiamati in russo Kurgan, che appartengono a questa popolazione, gli Sciti, famosi soprattutto dai racconti di Erodoto, che appunto popolavano le steppe sconfinate dell'Asia centrale ed erano dei famosissimi cavalieri e arcieri che nei racconti di Erodoto risulta appunto venissero utilizzati anche come mercenari nei principali eserciti dell'epoca. Nel Silenzio perché è un popolo che non ha lasciato fonti scritte, quindi diciamo ricostruire la loro storia, la loro civiltà risulta piuttosto complesso e ci basiamo soprattutto sui dati archeologici e sulle fonti storiche indirette, cioè di quei popoli che entrarono direttamente o indirettamente a contatto con gli Sciti. Erodoto per esempio è uno di questi. Tra settimane di scavo con che risultati? Ma i risultati sono stati molto interessanti. L'obiettivo era di scavare due tumuli funerari, che sono queste strutture appunto tombali di dimensioni piuttosto consistenti, il diametro è di circa 40 metri. Siamo riusciti a completare lo scavo di un solo kurgan perché la situazione stratigrafica era molto complessa e quindi ciò ha richiesto un tempo piuttosto prolungato e il secondo tumulo non è stato completato lo scavo. I risultati sono stati interessanti. Databili a quando intanto? Ancora una datazione precisa non è possibile perché stiamo attendendo i risultati di alcune analisi scientifiche tipo la datazione del carbonio 14. Comunque diciamo l'arco cronologico dovrebbe essere compreso fra V e III secolo a.C. Purtroppo il tumulo è stato trovato quasi completamente vuoto perché generalmente l'inumato era accompagnato da un corredo piuttosto ricco. La tomba invece era vuota. L'aspetto interessante è stato che non si tratta di una depredazione da parte di tombaroli che generalmente effettuavano un foro diciamo dalla parte sommitale e distruggendo tutto ciò che incontravano fino ad arrivare appunto ai reperti che venivano razziati. In questo caso invece c'è stata molto probabilmente una depredazione di tipo rituale cioè le stesse persone che avevano sepolto l'individuo all'interno del tumulo un po' di tempo dopo non sappiamo stabilire con precisione quanto tempo dopo hanno riaperto il tumulo hanno estratto il materiale generalmente i corredi sono piuttosto ricchi e includono anche oggetti d'oro. Quindi è stato tolto questo materiale è stato effettuato qualche tipo di rituale perché abbiamo trovato il cranio diviso in varie parti e deposto agli angoli della fossa di sepoltura e poi hanno ri diciamo sigillato il tutto con terra e strati di pietra. Quindi io personalmente non avrei mai pensato di trovare una tomba vuota perché il tutto sembrava proprio sigillato. Ecco ma è una pratica questa qui diciamo che è stata ritrovata anche in altre situazioni? è attestata anche in altri contesti ma non è così comune. Sembra... Chiedo scusa rispetto a zone precise oppure abbastanza diffusa anche? No abbastanza diffusa perché gli sciiti sono diffusi questo popolo sono diffusi su un'area molto vasta che va dall'Ucraina diciamo fino alla Mongolia però si divide in culture a livello diciamo più regionale e questa pratica è attestata sia nella zona dove eravamo noi cioè nel Kazakistan sud orientale ma anche più a est al confine per esempio con la Mongolia. È una pratica probabilmente dedicata ai sacerdoti e alle sacerdotesse. Erodoto stesso racconta che i sovrani nelle sepolture dei sovrani dopo un anno venivano effettuati dei rituali. Non parla diciamo non cita esattamente questo tipo di rituale però fa riferimento a rituali successivi alla sepoltura. Ecco quella di Tombaroli invece non si può definire un rituale in assoluto. Cosa lasciano invece quando... che tracce vi lasciano sostanzialmente quando trovate qualcosa in cui sono passati loro per prima? Generalmente il foro è molto ben visibile perché scavano una sorta di galleria generalmente al centro perché la camera era sempre al centro del tumulo. C'è da dire che spesso c'erano anche camere laterali quindi una sopoltura con più corpi però non potevano chiaramente forare il tumulo in più posti perché avrebbe richiesto troppo tempo e quindi andavano a colpo sicuro nella parte centrale e lasciano una galleria dove la consistenza del terreno è molto più morbida. E una volta arrivati nella camera dove c'era appunto l'inumato o gli inumati e il corredo non badano diciamo non fanno molta attenzione e spaccano un po' tutto. Spaccano tutto? Sì spaccano tutto. Il loro obiettivo è solo recuperare i metalli preziosi e spesso si trovano anche gli strumenti che hanno utilizzato per scavare queste gallerie. Quindi danneggiamenti importanti a tutto questo. Il vostro scavo doveva essere appunto di due tumuli diceva prima appunto. È stato fatto una parte e... Sì un tumulo è stato scavato completamente siamo arrivati appunto fino alla base. L'altro tumulo è stato invece semplicemente iniziato perché dobbiamo dire che questi tumuli avendo dimensioni molto grandi vengono generalmente per metà asportati con l'escavatore. Poi viene ripulita una sezione che ci dimostra appunto la tecnica costruttiva di questi tumuli e chiaramente c'è tutta una documentazione archeologica che è necessaria quindi fotografie, disegni sia per quanto riguarda le piante sia per quanto riguarda le sezioni e questo richiede molto tempo. Speriamo di poter finire di scavare questo tumulo il prossimo anno. Ci possa essere appunto questa ulteriore possibilità. Capiamo dunque allora chi è intervenuto all'interno. Abbiamo qui con noi Lorenzo Grescioli che è un dottorando. Come equip, mi spiegava prima, equip italiana e anche kazaca vicine. Come sono strutturate appunto? Come avete collaborato? Io sono appunto uno studente di Cafoscari e il progetto è però diciamo portato avanti dal centro studio e ricerche Ligabue di Venezia che ha ripreso gli scavi dopo 15 anni in Kazakistan e proprio in questa occasione ha cercato la collaborazione dell'università e quindi dalla parte dell'università eravamo io ed un altro studente. C'era poi una responsabile di questo scavo per conto del centro studi, quindi un'archeologa russa che ha studiato però qua a Venezia. Elena Barinova. Elena Barinova. E poi c'è la controparte diciamo kazaka perché l'accordo è comunque trilaterale e quindi c'erano due archeologhe del locale istituto di archeologia della città di Almaty. Quindi il gruppo era costituito da cinque persone, da cinque archeologi e più una serie di specialisti che la paleobotanica o la disegnatrice per esempio, più avevamo circa 15 operai provenienti dal locale, dal villaggio vicino. E quindi hanno materialmente poi? Sì, portato avanti il lavoro. Il lavoro. Un'esperienza questa è costruita in quanto tempo, nel senso da quanto tempo prima ha saputo di poter avere questa opportunità per andare a seguire. Beh, questo tipo di missione naturalmente richiede una grande programmazione, quindi sin dalla primavera e anche prima, insomma dall'inizio di questo anno, dall'inizio gennaio, sapevamo che saremmo andati a scavare e quindi ci siamo documentati e ci siamo preparati per questo scavo. Poi chiaramente il periodo viene deciso poi in base agli impegni non solo nostri ma anche dei nostri collaboratori kazaki e solo a primavera abbiamo saputo appunto che il periodo era agosto, poi generalmente è sempre il periodo estivo per ragioni climatiche. Ecco, perché in Kazakistan è una situazione climatica abbastanza particolare. Sì, l'estate sono molto calde, quindi noi abbiamo lavorato anche con 35 gradi, anche se il clima cambia velocemente perché alcuni giorni era molto freddo e con improvvisi acquazzoni e allo stesso tempo c'è un'escursione fra il giorno e la notte piuttosto forte, la notte arrivavamo anche a 6-8 gradi. L'inverno è il tipico clima continentale, quindi le temperature arrivano anche a meno 30 gradi, insomma 30 gradi sotto zero. Ecco, un'acquazzone che citavo poco fa, quanto può rovinare del vostro lavoro, sostanzialmente? Oltre che fa perdere del tempo ovviamente necessario. Sì, fa perdere del tempo, però diciamo dall'altra parte... Non è che rovina fisicamente appunto tutta una serie di tracce, di cose che... Dipende, dipende, dipende dal punto in cui siamo. Quando si arriva a scavare, diciamo, i livelli più bassi, vicini alla sepoltura, generalmente si crea una sorta di tettoia per proteggere lo scavo sia dalla pioggia ma anche dal sole troppo forte che secca la terra immediatamente, quindi risulta più difficile poi scavare. Interventi complessivi. Facciamo un passo indietro ulteriore e capiamo un attimino anche in precedenza, prima del Kazakistan, che altro tipo di esperienze, di soggiorni durante il percorso universitario ha potuto effettuare nel Vicino Oriente e non solo? Sì, ho avuto la fortuna, devo dire, di partecipare a numerosi scavi in paesi stranieri. Io ho studiato per il Vicino Oriente, quindi l'antica Mesopotamia, e ho avuto l'opportunità di scavare sia in Siria dal 2006 fino al 2010 e poi in Turchia, contemporaneamente, dal 2008 al 2012. In Siria è particolarmente un momento difficile politico? Ha avuto sentore di quello che stava accadendo o eravate in zone tranquille anche da questo punto di vista? Beh, eravamo in una zona un po' marginale, quindi che anche durante queste rivolte è stata un po' solo parzialmente toccata, perché eravamo nel triangolo al confine con Turchia e Iraq, nella zona un po' diciamo a prevalenza kurda. Però io non ho assolutamente avuto sentore di questa violenza che poi si sarebbe scatenata e ho avuto modo di partecipare a cinque campagne di scavo, ognuna della durata di circa due mesi, quindi ho passato del tempo là, eppure dal mio punto di vista non si vedeva niente di simile all'orizzonte. Cinque campagne di scavo a che distanza l'una all'altra? È a cadenza annuale, quindi ogni anno, diciamo, tra giugno e ottobre, a seconda degli anni, ma comunque durante il periodo estivo, ogni anno facciamo una campagna di scavo generalmente. Poi questo dipende anche dalla disponibilità dei fondi. Naturalmente quelli sono sempre a decidere quanto, come può essere attuata. Turchia è stata una cosa parallela, diciamo, è possibile nel corso di un'estate aver fatto più esperienze anche in più punti, o ogni anno viene dedicato a un territorio preciso? No, è possibile effettuare anche più di una campagna in posti, in luoghi diversi. Chiaramente è molto impegnativo perché, insomma, si comincia a parlare di tre, quattro mesi all'estero con ritmi lavorativi anche piuttosto pesanti, soprattutto in questi posti del vicino oriente dove il clima è ancora più estremo perché lì si raggiungono anche i 45 gradi e quindi si comincia a lavorare alle 5 del mattino per proprio sfruttare le ore un po' più fresche. E quanto dura una giornata tipo? Faccio tutte queste domande per far capire anche il tipo di difficoltà che incontrate. Beh, la giornata tipo è molto lunga perché questo poi varia leggermente tra uno scavo ed un altro, però generalmente si scava il mattino dalle 5 fino alle 1, quando si pranza poi c'è una breve pausa, appunto, riposo pomeridiano, e poi si riprende a lavorare alle 3 o alle 4 fino alle 7 la sera. Quindi, insomma, ci sono giornate piuttosto lunghe. Concentrazione che dura 7 giorni su 7 anche in questi casi delle campagne? No, generalmente in campagne più lunghe, di due mesi, si ha anche la giornata libera. Nei paesi musulmani generalmente è il venerdì o altrimenti la domenica, appunto, come da noi. Dove si approfitta per andare a vedere un'altra parte del paese, magari? Spesso. O c'è modo? C'è modo o non c'è modo di poterlo fare? Sì, no, c'è modo. Poi in un paese come la Siria, che comunque è piuttosto piccolo, il giorno libero generalmente eravamo soliti andare a trovare altre missioni, scavi vicini, oppure proprio visitare attrazioni più turistiche. Altre volte invece, soprattutto alla fine della missione, quando la stanchezza è tanta, cercavamo di riposarci. In Siria, in Turchia, in Georgia, che tipo di ritrovamenti avete effettuato in queste diverse situazioni? Per quanto riguarda la Siria e la Turchia, la Siria era lo scavo di una vera e propria città, molto estesa, di quasi 150 ettari, quindi un centro molto importante sin dal IV millennio avanti Cristo e occupato fino al I millennio avanti Cristo. In Turchia, anche in questo caso, era un insediamento, in questo caso però un po' più piccolo come dimensioni, era però un importante centro religioso, aveva una produzione di placchette che non ha trovato confronti in altri siti e in Georgia, a cui ho partecipato per la prima volta quest'anno allo scavo, è sempre uno scavo dell'Università Ca' Foscari, è stata la prima campagna rivolta proprio ad indagare, anche in questo caso, un insediamento, non molto esteso, ma i risultati della prima campagna sembrano mostrare che fosse un importante insediamento. Naturalmente maggiori campagne sono necessarie proprio per capirne di più. Tra tre minuti circa c'è una piccola pausa nella nostra chiacchierata, per capire, quindi un piccolo intermezzo, per capire se sta facendo in questo momento quello che ha sognato per una vita di poter cominciare a fare, cioè se davvero il poter applicare tutto quello che poi ha studiato e fatto sia davvero tutto un sogno o comunque un'attività davvero impegnativa che è molto diversa da quello che poi era nell'immaginazione. No, è chiaramente impegnativa, bisogna avere tanta passione e tanto entusiasmo per poter fare questo tipo di lavoro. Credo che un po' tutti i bambini forse sognino di fare questo mestiere, poi in realtà sono pochi quelli che veramente percorrono questa strada. Ecco, che ci riescono o che invece dicono no, meglio di no da qualche punto di vista? Credo che sia un po' una difficoltà ulteriore poi nel poter applicare quella che è la vera attività dell'archeologo? Beh, non proprio, perché comunque ci sono le possibilità. È chiaro che è un percorso difficile, bisogna... Molti ostacoli. Molti ostacoli, soprattutto insomma in questa situazione degli ultimi anni, situazione economica sia per gli archeologi che lavorano in Italia, sia per come noi che lavoriamo invece in paesi stranieri e dobbiamo rimanere affiancati all'università, perché altrimenti non ci sono possibilità di lavoro da altri punti di vista. Quindi l'università rimane sempre il datore di lavoro per gli scavi all'estero. E il dottorato, quello che sta affrontando, dopo aver studiato l'Università di Firenze, mi diceva, è obbligatorio sostanzialmente per poter appunto arrivare a un certo livello? Sì, perché il dottorato è diciamo l'unica via innanzitutto per poter poi avere un domani eventualmente la possibilità di insegnare e di lavorare all'università. Quindi il dottorato che è il più alto grado di istruzione a livello appunto universitario in Italia, poi ci sono anche delle, chiaramente si può continuare sempre a studiare con assegni di ricerca, di postdoc, però ecco è necessario, è veramente necessario per rimanere all'interno del mondo dell'università. Abbiamo iniziato a parlare dei Cavalieri nel silenzio, tra poco torniamo a riaffrontare la missione in Kazakistan, con Lorenzo Crescioli qui tra poco a 7 in punto per la seconda parte. Siamo con Lorenzo Crescioli, dottorato dell'Università di Caposcari di Venezia, una missione ecologica di Caposcari, ma anche appunto del Centro Studi e Ricerche Ligabue in collaborazione delle scoperte che dicevamo appunto di ritrovamenti molto molto importanti, ma una prima parte di questo lavoro è stata fatta, come potrebbe proseguire poi il lavoro? Beh, innanzitutto adesso in questi mesi dobbiamo necessariamente rielaborare tutta la documentazione acquisita durante la scorsa campagna di scavo. Poi chiaramente speriamo già a partire dalla prossima estate, quindi del 2014, di poter tornare in Kazakistan e di continuare lo scavo del tumulo abbandonato, fra virgolette, lo scorso anno e eventualmente scavare altri tumuli. Alla base di questo c'è un suo progetto proposto all'Università del Centro Studi o è una sorta di commissione di lavoro effettuato? In questo caso è una situazione un po' particolare, perché generalmente lo studente propone il proprio progetto all'Università e chiaramente c'è un esame, un'esaminazione e poi solo i progetti migliori, i ritenuti migliori vengono accettati. Per quanto riguarda il mio progetto è stato proposto dal Centro Studi e Ricerche Ligabue che ha bandito questa borsa di studio legata esclusivamente a questo progetto che ha una tematica appunto vincolata e che quindi io, per il quale io ho concorso e che poi ho vinto e quindi nel corso di questo dottorato per i prossimi appunto tre anni sarà il mio progetto di ricerca e quindi questo prevede anche la partecipazione a questi scavi in Kazakistan. Dal punto di vista della formazione, insomma, dello studio e tutto, mai stato tentato a parte che all'estero sostanzialmente ci lavora costantemente in questo vicino oriente ma dall'esperienza con anche università straniere, com'è un po' il lavoro all'estero? È diverso che qui da noi? All'estero ho avuto appunto l'opportunità di collaborare anche per lo scavo in Siria con un'università americana della UCLA di Los Angeles e effettivamente all'estero ci sono più opportunità per gli studenti è chiaro che comunque molti studenti tendono ad andare all'estero e soprattutto per gli studenti stranieri ci sono più difficoltà però chiaramente la situazione, anche se negli ultimi tempi anche all'estero è un po' cambiata è comunque sempre migliore rispetto alla situazione economica dell'università italiana Anche dal punto di vista del poter fare ricerca in un certo modo è diversa? Sì È quello lo stacco principale? Sì, è quella perché la ricerca nelle università io parlo adesso diciamo soprattutto di Germania, Inghilterra e Stati Uniti hanno più mezzi e quindi indubbiamente la ricerca è facilitata anche da una tradizione ormai consolidata investono molto nella ricerca cosa che in Italia soprattutto negli ultimi anni invece risulta difficile di fatti anche il dottorato di Venezia quest'anno è stato un consorzio anche con Trieste e Udine quindi la situazione è comunque difficile Difficile Queste unioni insomma a livello di nord-est citate adesso insomma a livello complessivo c'è bisogno appunto di unire le forze e ci vorrebbero soprattutto più centri studi ricerche come quelli di Gavua in Italia non ce ne sono tantissimi come questo Non ce ne sono tantissimi Ai noi Sì purtroppo sono per noi una sorta di benefattori perché comunque contribuiscono economicamente in maniera consistente proprio alla ricerca ed è un aspetto molto importante senza chiaramente sottovalutare l'aspetto scientifico Poi l'aspetto scientifico ma anche l'aspetto politico si è detto di un'interruzione di 16 anni dei lavori, delle ricerche in Kazakistan anche per l'influenza in qualche modo di situazioni politiche questo ha accaduto in Kazakistan può accadere benissimo in tantissimi altri stati la citava la Siria per esempio Sì chiaramente organizzare un tipo di missione archeologica all'estero è molto complesso è necessario mediare fra tanti fattori senza appunto escludere gli aspetti politici purtroppo adesso in Siria tutto è fermo ma qui già si tocca diciamo un estremo perché si parla di guerra civile a volte le missioni sono bloccate per molto meno e non è necessario arrivare a questi livelli quindi è un equilibrio fra una serie di fattori grazie ai quali poi una missione archeologica all'estero può essere effettuata Quattro minuti ai nostri saluti per capire un attimino come programma il suo futuro nel senso ci saranno dei progetti pensati per prossimi obiettivi diciamo da ricercare Sì innanzitutto nel mese di aprile probabilmente dovrò tornare in Kazakistan non per scavare ma per ricercare materiale bibliografico proprio nell'istituto di archeologia della città di Almaty e appunto avere contatti con studiosi locali perché comunque anche la lingua russa quasi tutte le pubblicazioni sono in lingua russa o kazaka costituisce un ostacolo non indifferente queste tre missioni definiamola forse in modo improprio così quanto durano mediamente? Ma questo dipende ora per quanto mi riguarda è relativa più al mio progetto di ricerca piuttosto che all'organizzazione della missione stessa è chiaro che chi organizza la missione in questo caso il centro studi ricerche Ligabue deve necessariamente recarsi in luogo più volte durante l'anno proprio per mantenere i contatti pianificare pianificare e provvedere all'organizzazione della missione estiva quindi la missione dura un mese tre o tre settimane però c'è dietro un lavoro molto lungo ecco questo per aprile poi come riempiamo l'agenda del prossimo anno e dei prossimi anni? Beh, questo per quanto riguarda aprile poi chiaramente si spera quest'estate appunto di partecipare nuovamente a questo scavo se tutto va bene insomma non ci dovrebbero essere problemi credo che parteciperò anche allo scavo in Georgia dove ho già partecipato lo scorso anno che non rientra esattamente all'interno del mio progetto di ricerca ma mi aiuta comunque a familiarizzare con alcune problematiche tipiche appunto dell'archeologia in questi paesi ex repubbliche sovietiche e quindi questo per quanto riguarda l'organizzazione fino a quest'estate poi naturalmente una volta tornati dalle missioni rinizia tutta la rielaborazione dei dati e dal prossimo inverno chiaramente dovrò cominciare a scrivere la mia tesi di dottorato perché poi alla fine del 2014 inizierà il mio ultimo anno di ricerca e quindi insomma devo un po' concludere e tirare le fila di tutto il lavoro ho durato tre anni Una volta ottenuto il dottorato che strade si aprono direttamente? Beh, a quel punto diciamo che comincia la parte ancora più difficile si spera sempre di ottenere assegni di ricerca o di vincere borse di studio per poter continuare a studiare ma chiaramente non c'è assolutamente certezza quindi è possibile che si debba cambiare città e università o addirittura nazione e cercare appunto borse di studio all'estero il mio obiettivo appunto sarebbe quello di continuare a studiare in questo settore di ricerca del vicino oriente e un po' diciamo dell'Asia centrale Un lavoro di questo tipo che è di ricerca ma è anche però di attività in esterno e tutto quanto è compatibile dal punto di vista anche come voglia di provarci con l'insegnamento oppure vorrebbe essere una cosa legata alla ricerca? Sì, sono compatibili generalmente sì Ma quello che vorrebbe fare? Mi piacerebbe mi piacerebbe provare a seguire questa strada quindi l'insegnamento è comunque un ruolo all'interno dell'università è chiaro che prima di poter diventare professore è una cosa piuttosto complessa comunque rimanere nel mondo dell'università magari appunto facendo qualche laboratorio qualche piccolo corso e allo stesso tempo continuare con questa attività di ricerca all'estero Grazie dunque Lorenzo Grescioli chissà che appunto che siano non soltanto racconti di questo tipo ma non solo auspici ma anche poi realtà effettive nel corso degli anni naturalmente bocca al lupo per il completamento di questo progetto complessivo grazie e buona giornata grazie a tutti A tra poco a voi invece con la seconda parte di Sat in Punto Grazie a tutti